Oggi vi trovo al Blerina Farm. Mi sto girando tutte queste mini fattorie nell'Interland di Tirana, quindi in periferia. Ci hanno portato come antre questa insalata che è squisita perché sono i semi di sesamo, peperoni, piselli e poi tipico formaggio, altri peperoni e cetrioli. Vediamo cosa ci portano dopo. Allora adesso ci hanno portato, lei è la titolare? No, è questo piatto ragazzi, aspetta vediamo se si inquadra, che si chiama? Valentina. No, tu ti chiami Valentina e questo piatto? Yaprak, quindi adesso mangio il yaprak. Sono io e Valentina, hai io il yaprak. Ok. Lì bulgur e vescoze. Broccoli, bulgur e uova di quaglia. Assaggiamo. preso un po' di... Cos'è questo? Quello bianco cos'è? Riso? Non è riso. No, non è. Si chiama bulgur. Bulgur. È come il couscous, tipo couscous, con l'uovo di quaglia. Buono, buono. Ragazzi, adesso è arrivato il mio amato burek. 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 Eccolo qua. Vi farò... Buon appetito. Non si mangia con le mani, ha ragione, perché brucia. Mangia, mangia. Il burek si mangia con le mani, però brucia. Si mangia con le mani, ma brucia. È buono che è però. Non è meno buono. Non lo posso fare subito adesso. Guarda... Anche se, ragazzi, a pranzo io ho l'albanese, il croato e l'italiana. È tutto a dire. E i miei rappresentanti, io vi posso riprendere. Allora, sono... C'è tipo un barzelletto, ragà. C'era un croato, l'albanese e l'italiana, che al lavoro... Sto lavorando. Vi giuro, sto lavorando. E finiamo con... Bagnello. Capretto. Il capretto, scusate, scusate. Questo è il capretto con le patate al forno. Assaggiamo le patate. Buone. Sempre buone. Buone. Buone.